Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. La statale 67 bis Toscoromagnola è provvisoriamente chiusa in direzione Fornacette al chilometro 15 e 300 a Cole Salvetti per un mezzo pesante intraversato. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipiline il ramo di Pisa per incidente rallentamenti tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!